Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una torta mimosa per la festa della donna. Prepariamo pan di spagna. Usiamo 5 uova. Montiamo le uova. Mettiamo 160 grammi di zucchero. Lavoriamo lo zucchero con le uova. Ho sbattuto bene le uova con lo zucchero finché ho ottenuto questa bella crema. Guardate che bella cremina è venuta. Mettiamo un pizzico di sale. Mettiamo 150 grammi di farina. Zero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.